ricordate questa mappa la mappa di alienozzo lui faceva il video dicendo che in questa mappa vedeva sempre hero brain quindi dovremmo vederlo anche noi adesso c'è una mucca in casa ok andiamo a posarci questo qui perché l'avevo preso, mi stavo facendo anche l'armatura perchè in questa mafia, gli ammatti non ce ne sono ho sentito un... il mouse è troppo sensibile, così non va bene rosso, verde, così l'avete sentito, vero? nooo! 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 questo popolo l'ho messo io, per illuminare un po' la circonferenza qui, per non essere proprio al buio appesto questa grotta non l'ho mai vista io, eppure abito qui c'è anche del ferro stava bene stava pensando a colpirmi, ma di morto ah, è là dietro nooo! 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 oh oh! sottotitoli non ci sono! nooo! 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 bravo! nooo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh! Io sono sicuro che qua giù ci sono i diamanti. C'è della luce. C'ho le zanzare che mi stanno, cioè se ne stanno approfittando di me, mi stanno bullizzando una cosa incredibile. Vado a accendere qualcosa per le zanzare. Allora... Devo fare una sorta di scala. E poi devo risalire, se riesca a salire da qui no tra loro. Allora... 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 Ma cos'è? Ma è un creeper oppure... C'è anche del ferro là in fondo. E' un creeper che mi sta aspettando. No, ma è allucinante. Qua, si è anche bloccato il gioco. Che cosa vorrà dire? Non tocco niente se no cado. Eccolo. Cioè mi ha fatto cagare. Mi ha fatto cagare. Mi ha fatto... Lo vedete laggiù? E' proprio laggiù in fondo. Mi ha visto che ero qua. Ma dai! Ma dai! Ma dai! Ma dai! Ma dai! B è unico quello scheletto. Allora... Se scendo da qui... Così piano piano... Senza fare gradini... Ah! L'ho ucciso! Guardate! Il creeper... E' lì! Guardate quella croce là su! Il creeper è ancora giù che mi aspetta. Sento dei passi. Intanto mi prendo anche qualche altro. Già che ci sono. Eh! Bravo! Ma no! Non è un creeper! E' della terra. E' terra con l'erba. Vi ho detto. Cioè... Si voleva un creeper. meno male che non sono sceso tutta una volta però c'è troppa luce per i miei gusti ci mancavano solo guardato il ferro che c'è 4 5 pezzi di ferro ma potremmo trovare diamanti a 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 avete visto chi c'è? c'è anche il creeper quindi avevo visto anche lui non vedo allora che scende sento anche un ragno allora prendiamo tempo a 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 Grazie a tutti. Ah, ecco perché la luce. Sparito. Non l'ho preso io. Proprio sparito all'osso. Penso che qua noi troviamo i diamanti. E dai, dai, io questo non l'ho messo, eh. Io non sono mai sceso qui, guardate. Guardate qua. Sento anche del fuoco. Non sono mai sceso io qua. Mi sa che Alien 8 aveva ragione. Questi li ho messi. Guardate. Una torcia. Torniamo a chiudere. Non c'è qua. Guardate. 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 E' caduto nella lava, mi dispiace, non ti ho buttato io. E' la nebbia che c'è, guardate, oh, guardate la nebbia, che inquiettante che dà il posto. E' la nebbia che c'è, guardate, oh, guardate. Ho visto che non poteva passare, ma vai a panculo, è tornato in dieta, questi aggiornamenti. Oh, guardate. Oh, guardate. Oh, guardate. Sì, è là in fondo accanto allo zombo. Illuminiamo un po' tutto. Eccolo qui. Ecco lo spawn. Guardate, non spawni. Se ci avviciniamo adesso, spawnano di brutto. Mi devo avvicinare subito. Mettere le torce. Dovevo fare tutto in fretta, senza cadere nella lava. Stava per fare cadere nella lava questa pasta. Mettere le torce. E' un maledetto possibile. E' un maledetto possibile. E' un maledetto possibile. Ma l'ho detto, io non sono mai sceso qua. Guardate la cosa che c'è. La 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 la. La 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 la. E' un maledetto possibile. Ma l'ho detto, ma l'ho detto qui va a livellare. non c'è niente di serio qua ci deve essere un altro spawn dietro di me che bastardo vai te visto come sono caffi come sono cagato oppure ci sono le torcia qua come ha fatto a sponarmi sotto e il creeper come ha fatto a sponare qui non ho mica capito un altro a bisettare ti prendo bastardo 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 ma come fanno a spawnare sotto se c'è il blocchetto, non lo capisco eccolo, secondo me sono due gli spawn, c'è spawn ad qui, sento anche uno zombie, lo stesso spawn, non è lo stesso, non è lo stesso, è un altro, è un altro spawn, avete visto? qua è, io dico uno stack, 64, avete vinto voi, uno stack e mezzo, uno da 64 e uno da 37, accidenti, tutto perro, raga questo è culo, non troppo perché non abbiamo trovato nemmeno un diamante, nemmeno uno, eppure siamo scesi, neanche luce, non la conoscevo questa grotta, andiamo a casa, a posare il bottino, dove è l'entrata, manca della cobblestone qua, lo sapete, che manca della cobblestone, manca questa qui, io l'avevo messa qui, così, così, non 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 ok or non pensavo di averne preso di più cobblestone Cosa è prezioso? Il disco 13. Non ce l'avevo notato. Sono 21 questi. Oh, 21! 21 cordicelle. Questi qui sono 8. Abbiamo già ucciso molti ragazzi. Questi non ne abbiamo altri. Mettiamo... No! Questo. Quando... facciamo un altro quadro... Aspetta. No! Perché è fatto da brava? Ma... In questa versione non sale sul letto, così. Nooo. Nooo. Sì, ma scendi giù dal mio letto, ecco il letto della puttana. Ecco, 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 ecco. Ecco, 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 ecco. Ve l'ho detto, fa prima cuocere. Non ce n'è più, non ce n'è più, più, solo qua. Ancora quelle finisce col video. Non ce n'è più, non ce n'è più. Non ce n'è più, non ce n'è più. Non ce n'è più. Grazie a tutti. 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 Come si fa qui in questa versione? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, qui si fa così... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi dispiace. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 No, 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 no. No, 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 no. E non si è sentito. E non si è sentito. Si è sentito anche all'inizio del video. Ma non si è mai visto. No, 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 no. No, 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 no. Oh vabbè ragazzi io vi saluto il video mi sa che è un po' lungo ciao ciao